buongiorno e bentrovati a tutti oggi vediamo come sostituire il termostato di un forno elettrico che non funziona correttamente per verificare che sia il termostato il problema provate a girare la manopola del termostato e osservate la luce spia se questa si accende e si spegne con la piccola variazione allora il termostato funziona se invece rimane sempre accesa o sempre spenta il termostato è rotto in altri casi potrebbe anche accendersi e spegnersi ma i vostri cibi risultano bruciati in questo caso vuol dire che la sonda come è il mio caso è stata completamente asportata dall'interno del forno da qualche maniaco della pulizia andiamo a riparare sostituendo questo termostato ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al canale e mettere like se vi piacciono i miei video procediamo a svitare le quattro viti che fissano il forno sul mobile della vostra cucina a questo punto vi consiglio di mettervi dei guanti da lavoro perché le pareti le lamiere del forno sono molto taglienti andate a tirare fuori il forno dal suo mobile di cucina e posatelo su un tavolo da lavoro iniziamo a svitare le viti poste nel coperchio superiore alto del forno per avere accesso al pannello comandi del termostato rimuoviamo con delicatezza il pannello superiore e vediamo subito la termostato in oggetto andiamo a scollegare i due fili che comandano il forno dal termostato vero e proprio dopodiché per smontare questo termostato dovremo smontare il pannello comandi in queste due viti laterali a destra e a sinistra a questo punto possiamo anche tirare fuori il filo della sonda del termostato sonda che nel mio caso è inesistente pertanto tiriamo via soltanto il filo dall'interno del forno andiamo a svitare le quattro viti laterali che bloccano il pannello comandi nella parte superiore del forno fatto questo andiamo a rimuovere le manopole ad incastro dal pannello di comando per poter agevolmente smontare il pannello comandi sono manopole come vedete a con perni a mezza luna quindi quando le andrete a rimontare dovete tener conto della posizione del perno rispetto alla manopola a questo punto smontiamo il pannello comandi e in questo modo abbiamo accesso alle viti frontali che bloccano il termostato nella sua posizione svitiamo queste due viti frontali e il nostro vecchio termostato è pronto per essere sostituito prendiamo il nostro nuovo termostato nel mio caso vi metterò il link in descrizione per questo che è un forno ariston andiamo a srotolare leggermente il cavo della sonda che andrà infilato all'interno della camera del forno e poi andiamo a posizionare il termostato avvitiamo le due viti a croce e siamo pronti per rimontare il pannello di controllo sempre a ritroso cioè partendo dalle quattro viti che si trovano lateralmente a destra e a sinistra reinseriamo la sonda all'interno del foro per farla entrare nella camera del forno una volta inserita all'interno la sonda apriamo lo sportello e andiamo a posizionarla correttamente in orizzontale lontano dalla resistenza e anche dalla lamiera in questi in molti casi ci può essere un supporto per bloccare questa sonda all'interno del forno ricolleghiamo i due fastone indifferentemente se nell'uno dell'altra posizione nel retro del termostato per comandare appunto l'accensione e siamo pronti per riavvitare il pannello comandi al forno sia la parte destra che la parte sinistra una volta rimontato il pannello comandi siamo pronti per riposizionare il coperchio superiore nella parte alta del forno e reinserendo tutte le viti che abbiamo svitato precedentemente fatta questa operazione andiamo a rimontare le nostre manopole rispettando il perno a mezza luna rispetto alla manopola femmina e concluse le manopole andiamo a rimontare il forno all'interno del suo mobile da cucina riavvitando le quattro viti che lo tengono bloccato al mobile stesso fatta questa operazione non ci resta che provare il nuovo termostato accendendo il forno e verificando girando sempre la manopola del termostato che si accende si spenga la spia ad una certa temperatura attuale del forno e che una volta riscaldato il forno la spia di segnalazione del termostato raggiunta a una certa temperatura si spenga automaticamente questo ci darà la certezza che il nuovo termostato funziona perfettamente il guasto è riparato bene amici spero che questo video vi sia stato utile vi ringrazio per l'attenzione video vi do appuntamento alla prossima volta grazie e ciao